Tre case di appuntamento, tre bordelli in cui due metresse cinesi facevano prostituire alcune connazionali e una di loro anche clandestina. I clienti, liberi professionisti, medici, impiegati pubblici ma anche disoccupati, erano quasi tutti di età avanzata e con una famiglia alle spalle. A scoprirle sono stati i carabinieri di San Giovanni Valdarno. La storia nasce appunto nel Valdarno Arettino quando un italiano sposa una cinese, matrimonio forse di convenienza che serviva come copertura. Tre gli appartamenti su cui si sono concentrate le indagini dai primi mesi del 2018, varie ed eventuali le scuse che i clienti fermati dai carabinieri accampavano per giustificare la loro presenza. Gli elementi raccolti sono stati però più che sufficienti all'autorità giudiziaria per emettere il decreto di perquisizione. Il blitz dei carabinieri il 9 agosto ha consentito di smascherare l'organizzazione. Sono stati infatti sequestrate, ricevute di pagamento per siti web, di annunci erotici, cellulari di lavoro. Tutto riconduceva agli appuntamenti circa 15 o 20 a settimana per ogni prostituta. Alcuni di loro dovevano all'organizzazione il 50% dell'incasso di ogni prestazione. L'uomo, titolare degli appartamenti e le due donne cinesi che gestivano il giro di appuntamenti dovranno rispondere di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravato ed in concorso e favoreggiamento della permanenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari irregolari.